Quando funziona la coesione tra pubblico e privato, logicamente si hanno sempre degli ottimi risultati. Questo è quello che ci auspichiamo anche in base alle parole del Governatore oggi, che prevede effettivamente una fase di emergenza che piano piano si vada a stemperare, sempre logicamente con le giuste precauzioni, ed una fase volta adesso alla ripresa economica. Una ripresa economica molto interessante, che noi vediamo veramente con grandi aspettative, che non guarda solo veramente al mero risultato economico, ma anche ad investimenti intelligenti, di buon senso e che guardino alla sostenibilità. Quindi un ringraziamento anche al Dottor Damore per questo grande impegno che negli ultimi anni ha manifestato, specialmente nel nostro comparto alberghiero e tervale. Quindi andiamo avanti e speriamo veramente che Ischia possa di nuovo riemergere in una ottica nuova e in un grande splendore.